Siamo felicissimi, anche aspettiamo l'ufficialità, la gioia è grandissima anche perché oggi è il giorno del patrono, quindi immagina quante emozioni, le sezioni che abbiamo, che sono anche più di quelle che vediamo sui siti ufficiali, sono tutte molto positive, abbiamo sfondato con Sara la quota del 60%, cedo la fascia ad una donna, cedo la fascia a un'amica carissima, cedo la fascia ad una bravissima amministratrice, ho mille motivi per essere felice e per piangere di gioia. Si diceva che Firenze fosse l'ultimo baluardo del centro-sinistra, sì, Firenze è la linea del piave, qui la destra o altri partiti diversi dal centro-sinistra non hanno mai vinto, c'è una tradizione democratica fortissima alimentata da valori veri e anche da un'azione amministrativa efficace, qui la linea del piave rimane forte, solida e invalicabile. E si brinda con una birra? Una birra di Friburgo!